Musica Falso allarme bomba a Feletto oggi, giovedì 26 ottobre, in via Gianni Micheletto. L'allarme è scattato per una valigia abbandonata vicino a un condominio. Intorno alle 18 sono giunti sul posto i carabinieri di Rivarolo Canavese e gli artificieri della polizia. Dopo essere stata portata con le dovute cautele in centro del prato che costeggia la carreggiata, è stata fatta brillare. In realtà la valigia conteneva soltanto indumenti. A lanciare l'allarme alcuni residenti, la valigia si trovava vicino all'abitato fin da questa mattina. Lungo la via, essendo orario di punta, si è formata una lunga coda. Lungo la via, si è formata così.